Salve ragazze, benvenute e bentrovate, eccoci qua nel nostro messaggio del giorno per voi. Iniziamo subito, mischiamo, oh 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 oh, qua è uscita una carta, la prendiamo, la prendiamo. Sì, perché qua il messaggio del giorno è così, quindi questi Romantic Tarot hanno voluto immediatamente darci il loro contributo. Questa carta è praticamente schizzata fuori come un razzo, chissà che cosa voleva dirci e cosa vorrà dirci soprattutto. Allora andiamo a vedere, adesso stiamo mischiando i Rider White Tarot. Allora, ragazzuole mie, ragazzuoli miei, come state? Spero bene, spero che vi siete svegliati con voglia propositiva, perché ricordatevi che pensare e agire positivo porta sempre come ritorno la positività. Andiamo a vedere quindi adesso i Tarot Mucha che cosa ci vogliono dire quest'oggi in questa stesa. Come sapete, ripeto sempre, qui decidono tutto i tarocchi o le carte, gli oracoli, scusatemi, che io scelgo. Quindi noi non siamo artefici di questo messaggio, sapranno loro cosa ci deve arrivare in questo dato momento. Ovviamente se siete qui qualcosa vi deve sicuramente arrivare. Un consiglio, un suggerimento, una frase, quantunque anche una sola parola che può significare qualcosa per voi. Andiamo a vedere con i Tarocchi dell'Indovino. Prendiamo una carta anche di questi Tarocchi. Allora ragazzi, io vi voglio dire che questi qua ovviamente sono sempre interattivi, generalizzati, quindi prendete tutto con cautela. Poi, fermo restante, che se volete avere un consulto personalizzato per analizzare una situazione che vi sta a cuore e lo volete avere con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti zairafasserygmail.com oppure nei miei profili Facebook Zaira Fassery o nel mio profilo Instagram Zaira e i suoi Tarocchi. Ovviamente il messaggio privato. Qua è uscita una carta e la prendiamo. Allora, andiamo a vedere ancora. Queste erano le Sibille francesi. Quindi andiamo ancora a vedere che cosa appunto ci vuole dire questo messaggio di oggi per voi. Abbiamo qua appunto gli Angeli del Cuore. Andiamo a vedere gli Angeli del Cuore. Cosa ci vogliono dire quest'oggi? Allora, ragazze mie, io vi ringrazio sempre di venire nei commenti, di farmi sapere gli scontri. Sono molto felice di questa sinergia che abbiamo creato, noi, voi e io, che porta solo, ecco, delle connessioni molto valide. Andiamo a vedere le carte dell'adivinazione che suggerimento ci danno per oggi queste meravigliose carte. Ecco qua. Eccoci qua, Zahira. Le nostre carte verdi di Zahira. Eccole qua. Vediamo che appunto ci danno sempre quei input, no? Quei suggerimenti. Queste sono le carte che ho creato io, sia a livello fattivo che a livello, diciamo, di pensieri, di energie, cose che mi sono venute in mente così, d'impulso. Quindi sono abbastanza chiacchierine. Andiamo a vedere che ci vogliono dire quest'oggi. Ecco qua. Noi abbiamo terminato, ragazzoli mie. Qua viene fuori. Non voglio una relazione stabile. Ecco di cosa parliamo quest'oggi. Qui c'è qualcuno che non vuole una relazione stabile. Andiamo a vedere di chi si tratta. La carta felice, felice. Potrebbe essere la persona giusta. Abbiamo la carta del giglio. Tutte carte positive fino adesso. Abbiamo la carta della giustizia ma capovolta. Due carte della giustizia. No, vabbè. Una dritta e una capovolta. Fantastico. Abbiamo la carta dell'appeso e anche poi abbiamo la carta dell'asso di spade. Allora qui è chiaro come il sole che parliamo di una persona bloccata. Una persona che al momento, vedete, non vuole una relazione stabile. Questa persona al momento è bloccata. Perché è bloccata questa persona? Perché è, vedete, ha una sorta di altalenanza. Perché mi viene fuori. Da questo blocco mi viene la voglia di equilibrio con la giustizia al dritto. Quindi la voglia di equilibrio, un equilibrio, una positività, un giudizio esatto su una cosa richiesta. Quindi lui vorrebbe questa relazione per una parte. Per una parte è molto indeciso. C'è del pregiudizio. C'è una sorta di sentirsi comunque invaso, abusato. Forse voi insistete. E lui ancora non è convinto. Qua vedete anche la carta dell'asso di spade. In questi tarotti romantici ci parla di dubbi, di sì avere dei desideri, però di avere, come dire, il cuore annoiato. Quindi questa persona è, cuore annoiato, dobbiamo contestualizzare che significa. Significa che questa persona evidentemente nella sua vita passata ha avuto delle problematiche a livello sentimentale. Quindi questa persona probabilmente ha sofferto molto nel suo passato. E quindi lui vuole proteggere il suo cuore. Il cuore annoiato significa che lui non vuole mettere cuore. Vuole soltanto impostare i sentimenti, le relazioni su qualcosa di più leggero. Ma non perché non ci siano i sentimenti nei vostri riguardi. Perché qua viene una meravigliosa carta del Giglio che ci parla appunto di un chiarimento sentimentale, di un sentimento casto, puro. E poi ci dicono anche le carte del cuore che potrebbe essere la persona giusta. Quindi qua sicuramente questa persona che avete incontrato è quella giusta per voi. Però vedete questi dubbi, queste paure, questa indecisione lo portano a dire non voglio una relazione stabile con voi. Però vediamo qua cosa succedere, cosa succederà o cosa potrebbe succedere. Vedete, avete la fortuna di questa carta. Felice, felice, vedete che ci parla proprio di una serratura, di un qualcosa che viene svelato. Quindi che cosa ci dice questa carta? Desiderio realizzato, rapporto felice, gioia e soddisfazione realizzate. Quindi godersi questo legame felice. Quindi questa è una carta veramente molto positiva. Perché vi vuole dire che nonostante questa persona non vuole una relazione stabile con voi. Perché è indeciso, perché ne ha sofferto nella sua vita, non vuole far soffrire ancora il suo cuore. Quindi si nasconde nei dubbi, ma alla fine ha paura. Appunto, vedete, con la giustizia a capovolta è tremendamente indeciso. Però qui succederà un chiarimento sentimentale. Qui si ritroverà la giustizia. Qui sicuramente questa è la persona giusta per voi. E quindi qua ci sarà una felicità che vi attende. Quindi questo era il messaggio del giorno per voi. Che dirvi ragazze e ragazzi? Bellissimo questo messaggio. Io vi aspetto come sempre tutti nei commenti. Fatemi sapere se vi siete riscontrati, se avete una situazione del genere. Insomma, fatemi sapere i riscontri. Sarei molto felice che questa stesa potesse riguardare a tanti di voi. Ragazzi, io vi saluto. Vi do appuntamento a domani per il messaggio di domani. Vi voglio tanto bene. Insomma, ciao e a presto dalla vostra Zaira. Mua!